Andiamo Però volevo quella one con me Vabbè Cazzo A quanto pare no Trovo gli alloggi di wolf Beh Ah Piano tarra evidentemente Ispezione gli alloggi Tutto tranquillo per il momento Sembrerebbe C'è una porta di là Eh guardiamo quella Ecco 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 Passo che a me si fa già più interessante Nastro Per gestazione nella stanza wolf numero uno Ah porca miseria Fermi tutti però C'era un altro nastro di là mi pare sapete Qua 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 eccolo qua eccolo qua Eccolo qua Nastro numero tre Quindi lo scopo di questa parte è trovare i nastri Sembrerebbe Ok Ok E now what Sezione gli alloggi O c'è un'altra cassetta da questa parte E non l'ho vista prima Dentro l'area di ricerca ragazzi Me ne vado No 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 Evidentemente c'è ancora qualcosa altro da trovare Ah 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 Ecco 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 Saponi No No Decisamente no Non c'entrano da questa cosa qua Pa' dentro forse Pigmenti No Non credo fossero questa che cosa di valore Sapete Qua a notte non ne vedo Ah Cos'altro c'è rimasto qua Qualcosa qua sopra forse non so Questo si apre? Sì ma non c'è nulla Qua dentro? No C'è qualche altro armadio che non ho visto per caso Che strana sta cosa Ispezione gli alloggi Ma che cazzo adesso Ovviamente dovrei farlo più spesso sta cosa eh Ah ecco 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 Ma che c'è quello che si è arrivato da un po' Che aveva fatto per noi Tu sick fuck Tu sick fuck Aiden Ho arranguto la transportazione per te Sì grazie Chi ne avrebbe mai visto quelle fino lì Cioè nel senso Da esaminare voglio dire Ordine di eliminazione La carta è lo gioco dell'infetto Ha solo i bastoni urlatore Interessante E qua sotto secondo voi cosa c'è ragazzi? Vediamo Se hanno ammesso questa deviazione ci dev'essere un motivo Secondo me Oppure no Oppure era l'unico modo per andare via No 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 Sto facendo un giro molto molto strano Lasciamo stare E' sbagliato di qua sapete Torniamo di qua Non c'entra assolutamente nulla Abbiamo unaP C'è Killian C'è Killian? I heard you're looking for Waltz That's right, he's going to the tunnels near Tower Plaza Drive Gotta stop him before he gets the next 13 We're going there There aren't too many of us, but The Night Runners stand behind you Hmm... Armi Ecco, arco militare Questo qua sarebbe sicuramente interessante 15.000 costa Io ho 70.000 Vai Ascia, bla 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 Equipaggiamento Equipaggiamento Danni, attacchi parkour Velocità di rigenerazione e salute Va bene, bene Rottami Compra tutto Ok A posto dai Vai Aiden Aiden The driver will take you to the tunnel entrance Si That should lead you to X13 Also About your lady friend A killer What about her? She escaped She killed three of my best Nooo I have no idea where she is Williams If you hurt her I I didn't You have my word Now go There's no time left Soon I assume The next missile are going to strike the city Dai Lawa ma che casino hai fatto? Perché ha acceso tre persone di Williams? Va Andiamo verso la fine eh Andiamo sicuramente verso la fine Are you tired? Are you tired? Are you tired? Corro mai più Ho un brutto per sentimento Nooo Porca vacca Porca vacca Poverino Aiden What's your hurry? Didn't you guess we'll be following you? This isn't the time to settle scores, Jack The renegades have just entered the clown Are you going to join them? I'm going to stop Walt's You are nothing but a traitor to me Kill the traitor There's no need to leave Heheheh Heheheży Ah, è già. Gatto. Oh, oh, oh Eh, dai eh Basta a cazzo Spanculo Sì, avete rotto le palle Oh, cazzo, che combo di fan Oh Bene Wow Però, cavolo Eh Merda A noi due Giusto? Eh, Jack Mi costrino di cazzo Eh Mi dispiace Grazie, Aiden It didn't have to end this way, Jack It did And there was a moment I saw my successor in you I'm going after Walt's, Jack You think you're gonna make it? You don't have to enter this cloud, Aiden You've already become a monster Sometimes You have to become a monster To stay human Un altro attack Williams Was right Jack Mi dispiace, Jack Non è ricattivo Ho avuto delle scelte sbagliate Eppure le ho fatte io Non lo so La quale è tratta del tunnel Eh Ok Possiamo luttarlo, Jack Buono Ah, che cazzo Oddio Oh, scusate Tutto il loot che c'era Porca miseria Perso, ma vaffanculo Mi spreco Dentro l'area di ricerca Prova l'entrata del tunnel Eh Sì, ok Quella domanda Dove potrebbe essere L'entrata del tunnel Secondo voi Cosa ne so io Di dove è l'entrata del tunnel In una vittima Così grande Qua forse Può darsi E' un sacco di luce accese Chissà Dico io, eh Non lo so Non cazzo Guarda ragazzi Vediamo un attimo Possibile Detto Aveva un posto Piano terre Semi interrato E' un po' troppo Ampia Staparte Secondo me Qua sono stato Sicuramente io A fare ste cose Però direi che Non c'entrano un cazzo Sapete E' strana E' strana sta parte Buttata un po' così A caso Vai Trove siamo interrato Vabbè Ok Alla mia sinistra Sembra Vediamo di là Ancora Cosa Cosa Vediamo Ecco perché era così Cosa Voi 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 Ecco perché non si capiva una minchia, perché uno doveva a giropegare un po' a casa e dopo fare così Ma tu puoi salvare, Aiden. Tu puoi salvare. Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Prendete ragazzi. Penso che qua c'è tutta roba mutagena. No, infatti Area chimica Oh, 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 oh Andiamo su per il ponte qua, non so onestamente Le parti qua non sono particolarmente chiare Non sono mai state Qua dentro probabilmente, sì Oh, perfetto Stavo per cercare la dinamite Oh, insomma, qualcosa, ecco lei Bene E' molto rilassante Che graficone 300 metri di qua Ehm, boh, proviamo ad andare di qua, non lo so Ehi dai, c'è una caverna interessante, sembrerebbe Fariamo bene Non è molto chiara come cosa So that's where you're headed Cazzo Perfetto Katana Saliamo di qua Eccoci What? Sto arrivando, eh E come si sta arrivando, cazzarola What are you looking for here, you madman? X-13 Finalmente Che cazzo sei tu? Ah, un rinnegato a caso, probabilmente La Juan Non mi fermerai, la Juan Aspetta, voglio solo fermare Wolf You know I have to stop Waltz You betrayed me Only to save your ass, and you know it Don't try and stop me We can save this city Fuck you, Aiden That doesn't look good And you, you're in danger with me, La Juan You know it You don't understand Those bastards destroyed everything And everyone I love Everyone who died in the attack Frank is dead I won't I won't lose you too I'll be okay Everyone says that Look at me, La Juan Look at me in the eye Look at me, La Juan I will make it back Yeah, you will Because I'm going with you La Juan Frank always said I'm real nightrunner material Let's see if he's right Ladies first Come le signore Grazie It's getting worse, isn't it? You're pale I'll be alright We'll find it before it progresses any further We will do this Understood? Yeah Yeah, let's finish this Oh no Fuck Ah yeah Ma ogni volta rimani indietro, Aiden No, ogni volta, eh The one, you there? The one The one Aiden I took care of the guards, but I have no idea how to open the door Ah, okay La sfondo I really don't know how to open it Try to find another way inside Cascina difficile, no Fino all'ultimo Cato Forziare fino all'ultimo Forziare Forziare Difficili fino all'ultimo Quello è il bello E tutto per Azioni Va bene Jack invernale Ok Ok La one Arrivo Però qua Non mi sembra mica una cosa fa Ancora No, basta È più forte di me Ah, che culo Protezione rinforzata di livello 6 Allora Qua mi posso nascondere È questa? Nice Eppure Non è di qua che si andava Ma neanche Arrivo la one Arrivo Credo Cazzo Devo farlo entrare Va bene I've got you now Motherfucker Scusate perfetto ditta e mosca ok un altro scassino difficile va bene con il ceffo qua poi vediamo che culo veramente vediamo un attimo l'equipaggiamento livello 5 qualcosa che faccia upgrade un po a tutto eventualmente no danni armi a distanza danni armi una mano questo qua è interessante dai qua invece esperienza combattimento costo vigore parkour danni armi a due mani danni armi una mano questo qua va già di livello 6 livello 6 livello 6 va bene così dai va bene così arpi ascia comune no grazie neanche questo neanche va neanche avanti che sia giusto boh sembra quasi una parte riempitiva perché alla fine ci stiamo facendo di interessante niente qualche corridoione così a casa qualche combattimento non c'è nessuno oh my god what is this they were collecting food here fuel water look at this they were hoarding supplies here wow my god the GRE built this place for some people to survive the plague like the ark like the ark ark noah's ark from the bible only there the goal was to save pairs of animals and here probably just goat fuckers from the GRE doesn't look like it's for regular people nope selfish assholes it doesn't look like anyone made it here the virus spread more quickly than they did justice was served Waltz was headed this way for sure he knew it contained everything he needed for survival we have to find him you see we have to find him you see i'll go first 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 Oh no. Buoh, questo Aikon che è un po' un cazzone diciamo Allora, vediamo un attimo Oh, wow, wow, wow Bene Ehi, 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 cazzo, cazzo, quanti nemici ci sono? Ah, perfetto Allora, a posto, dai Corri delle palle Altro che frecce, guarda Avete rotto i coglioni Questo di cazzo Uh, e questo che cazzo è? Infatti, c'è un po' di tutto, guarda Ma che cazzo? What the fuck is happening? Morte tutti? Bene Back on Madaba? Lawan How was your wound, little bird? Just a scratch The hangover after Frank's Rowanbury vodka is worse To this day, I think he didn't hide the bottle from me to teach me a lesson I remember, I remember the first time you told me about that Ouch You're lucky, kiddo You're lucky she was with you Otherwise, I'd have killed you Oh I saw the plans, Aiden The control room is that way Waltz must be looking for something in there I'm going after him Get the heck out out of here Just get that damn key back, Aiden Or we all die Si, provo Devo ritornare qui dentro, io Speriamo che si trasformi di nuovo Altrimenti non so Sono tutti nozzurni questi, eh Fuck È una cosa troce, ragazzi Atroce Oh Holy shit Non so che cazzo sia successo, però ci ho provato Boh, non lo so Fanculo tutti Pessima quella parte lì, comunque Pessima Per uno è quello dello stat come sottoscritto Pessima Anche il looting nella parte finale del gioco Ma perché? Non ci sta bene Aspetta veramente il ritmo Pessima Pessima Aiden Are we running away or what? Like Like Now? No When we're old Now, Aiden We need supplies Everything's ready It's our beds Why can't I remember taking this photograph? Who wrote that? Happy birthday, honey Buon compleanno tesoro Cartella medica x13 Gabriel Letterina del bambino in x13 Indirezzata alla madre Hmm Non fa niente Ah no Anzi, mi sa di sì Mi sa che sono arrivato da laio Oppure no No, no, no Io sono arrivato da qua dietro Devo andare in qua E allora E invece no Wendy Charles Oscar Con la cappa I promise You'll never leave me alone here Never I won't leave you Swear I don't have to Nothing could ever tear us apart anyway Nothing Aiden Come on It's time Don't worry What time? Oh damn Ma tutti i collezionabili di prima? Avevo visto altri precozzi a punti gialli It's okay It'll pass It hurts I know, I know, boy I'm right here with you Aiden Ssshh 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 Fire Fire in the lab Hurry Aiden You have to run Where's Mia? I'll find her I promise Run What is happening to you? Aiden Aiden Are you alright? Yes It sounds like missiles are launching nearby From this building I'm still looking for Waltz, Lawan I can't find any bandages Screw that, Lawan Look for an exit Get the hell out of here Aiden If the missiles are launching from here We need to find them I'll take care of that Right after I find Waltz I'll take care of it I think I can absorb this I'm going to be able to Petra And direct Doctor Waltz Use Sure erano quelli lì connezionabili le note diciamo andiamo avanti allora di qua ho visto le tracce ok oh cazzo via buono minchione perfetto qualcun altro aspetta che le faccio sospensionarie ragazzi dopo 8 mesi di gioco no si possono vedere dopo 8 mesi del lancio più o meno si bene o male va non so comunque ok le facciamo andare bene diciamo dai ma che cazzo sono anche pratica da raccogliere per cui va bene così non molto realistica però lasciatemi dire almeno questo e se siete arrivati fino a qua ricordatevi che potete supportare il canale su youtube e o su twitch o tramite le affiliazioni varie insomma su youtube a partire da 99 centesimi al mese cioè praticamente uno sputo in pratica ogni contributo ovviamente verrà usato per migliorare la qualità del canale e comprare altri giochi da noi due oi la ah si frecce 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 comunque bene è selezionata l'arma a distanza per sparare ma cattivissimo perfetto ok frecce finite sembrerebbe che posto è sto qua è possibile C'è quello che faccio? secondo me sta venendo da noi Walt e non promette bene ma che? tu era supposed a andare fuori da qui? fuori da qui ora, tu senti? Luan? Pia! questa parte qua non dico che sia brutta però manca di mordente per il momento eh non puoi sentire dietro l'altro non so Sì? Alla Accusa di serve Mia no ferma i lanci di miscili aiden 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 Preparatemi per un plot twist sicuramente interessante Questa è che cosa succede Cosa succede Cosa succede Cosa succede Non ti prometi, ti prometi Non, 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 non Non, non, non Non ti torturé noi Mi sconti e mia Non, Haydn Non mi sconti mai sconti Mia è mia figa E tu lo sai Che cosa? Non, non Vabbè 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 Già Vabbè Di questo Vabbè Vabbè Ma che cazzo? Ma perché dovrebbe morire? Ma che cazzo? Non c'è un altro modo. Il processo deve seguire fino alla fine. Non posso farlo. E allora devi morire! Cazzo! Io voglio che prendi la mia figlia da me! Beh! Non esplodono mica! Ma come? Ma che cazzo ragazze? Ma non gli fanno niente! La salute è bassa! C'è qualcosa che non va, sapete? È possibile che gli faccia così poco alla volta e devo togliergli tutta la vita? No, secondo me... C'è qualcosa di scriptato. Infatti... Oh no! Eh vabbè, ok. Ma perché non gli fa danno, scusate? Ma la smetti cazzo? A meno che sapete cosa? A sto punto mi vede a pensare che forse le frecce non gli fanno nulla. Basta, porca puttana! Combattimento strano. Sì, vabbè, ho capito, ma come cazzo gli blocco? Uso la schivata. Eh vabbè, porca di quella troia. Ok. Adesso proverò a schivare di più, dai. Ah vabbè. Oh, non schiva ragazzi, mi pare un rincoglionito Aiden. Guardate! Non farò mica una schivata quella lì, eh. Mia nonna è più agile, cazzo. Dai, ma se stavo saltando! Ma cosa sono? Ma cos'è Superman? Non si capisce bene. Sono tipo attacchi sovrannaturali, ma sono stupidissimi. Perché li hanno messi? Fan cagare! Hanno rovinato un combattimento, cazzo! Cos'è sta merda qua? Che cazzo sono queste porcherie? Mamma mia, che aborto! No, veramente? Sono robe brutte che hanno messo. Con me i testi di fri. Chi coi le dobbiamo fare una torta suon. È stupido. È stupido, è stupido. È stupido. È stupido. È stupido. È stupido. Oh! Aiden! Aiden! It's started! Ancora? Che cazzo? Neanche tempo di guardare la notifica che c'è ancora da combattere? No, ma basta, ancora? Dove cazzo è andato, ragazzi? No, ma basta! Niente, oh. Per qualche motivo ho deciso che mettere quegli attacchi lì del cazzo fosse una cosa bella. Per qualche motivo ho deciso che c'è ancora da combattere la notifica che c'è ancora da combattere la notifica che c'è ancora da combattere la notifica. Per qualche motivo ho? Per qualche motivo ho? è l'eserlo spappo, l'emise Waltz, è l'eserlo scopo You've always been like this, Aiden Honest Noble That's why she loved you so much Missile launch imminent Proceed to the nearest shelter X-13 is her last chance What would she say if she knew? Knew that everyone died because of her You're right, Aiden You're right She wouldn't want this Missile launch imminent Proceed to the nearest shelter That's why she cannot find out What? Ever Ancora? Ancora? Ancora boss fight Va bene Che cazzo? Che cazzo? Mi schiva tutte? No Beh, si ma no Che cazzo c'era io avevo lì ragazzi Ah, col parapendio Va bene Cazzo 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 3 L'ha tolto da solo Non capisco sta cosa No, ancora Ricominciate così No, ragazzi, perché? Perché? Bello il fatto che devo inseguirlo, eh Però gli attacchi stupidi Eeeh Probabilmente il fatto che vada così In alto, sicuramente dopo lo buttiamo di sotto Questo è il presentimento Uff Uff No Non dirmi che uccide la One, eh Cazzo Walt, dove c'è la clave? You've always been special, son Stronger than the others But you chose to run away What's the key? I don't want to kill you You look at the infected like they're the disease You fight them for the last ray of dying light Yet you can't see that we're only separated from them by a few minutes of darkness No, si trasforma adesso Vediamo se è infetto contro infetto Puck Cazzo Interessante come cosa, sicuramente Puff Non scappare però per carità Au Interessante Cazzo Beh, qua mi dico chiaramente io Ma che botte Credo Però c'è da dire che forse, forse non posso curarmi Cazzo Give me the key, or you'll kill everyone Do you understand? Stop! Eden! No! Mia? Go back, now! Mia, is that you? Eden, what happened to you? Mia, the key Without it, the city will be destroyed Mia, you need your ventilator I beg you It's gone too far Mia, hurry You need oxygen now Understand? Without it, I can't cure you You've been trying to cure me for years I don't want it anymore Save those people, Eden No, no, no No, 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 no Oh my God No 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 Mia, please Breathe Honey, please Breathe Help me Hurry, the generator I beg you I beg you Don't leave me, please Is she Is she gone? I don't know Mia, fight There you go Fight on me Aiden? The missiles are launching soon She was supposed to clear out of here, Luan Oh, that's hot for your mother-head bullshit, Aiden Did you get walls? Yes, Luan Found Mia And the key? It's gone What? The key's been destroyed, Luan Then undestroy it, Aiden God damn it Those missiles will obliterate the city Huh I can't stop it, Luan And the power? What if we kill the power in the city again? We have to get to the solar power plant, it's too far Aiden, no Oh, no, 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 no There's gotta be something we can do Launch countdown procedure Initiated What if we kill the power plant? We can detonate them before they launch With the explosives that we found in that warehouse Okay Okay, that, that, that just might work I'll go after them Wait, Luan Let me Stop her, Aiden She will destroy everything Launch countdown procedure Initiated Hmm Aiden, I've got the explosives But they need to be detonated manually Cazzo I, I can do this You just have to get out of here If she destroy the X13 You will lose everyone 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 you love I'm ready to set up the explosive Run Is this city really worth you losing everything? Ma che Kath permetti alla Wan La Wazn Salva la Wan Luan Luan I promised Frank That I wouldn't let you get Frank kept babbling I was gonna be the savior of the city Guess this is my cue Take an inhibitor, Aiden You can still stop her Save this laboratory Save me While you're still human Now She only has you Aiden Aiden Please Go This is the only way to save the city Salva la Wan I won't let you die like this Luan Even if the city pays the price But it's all I have Aiden Don't you see? We can't both die Just get out of here already I can't I'm sorry I failed you I'm sorry I'm so sorry Don't do it Aiden I'm warning you Get away from here you freak Or I'll blow you up too Aiden Please I'm not kidding We don't have to die together I want to save the city I have to save it Aiden Please Just turn the fuck around I'm getting you out of there We'll get you out And then take care of the missiles There's not enough time You hear me? Stop To the nearest exit Luan I'm almost there Aiden Why the hell are you listening to me? Whatever you think is between us You're wrong You're wrong One more move I'm blowing this place sky high Got that? You can't get out in time Not my problem Aiden I've got your sister Get the one out of here She's right Echo Aiden Stay back I'm blowing this shit up Get out of here Luan I'll do this For the last time Aiden Get the fuck out We'll let you die here Oh No No Oh no Oh my god I'm destroying everything 5 14 13 12 10 9 7 6 5 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 8 7 8 9 9 11 9 10 la troia secondo me ha fatto un ending piuttosto brutto direi piuttosto brutto il tuo mondo, le tue regole è finita di merda adesso vorrei solo informarmi su quanti finali abbia Dying Light 2 allora ragazzi grazie adesso se riesco vi faccio vedere anche il good ending però mi pare di aver capito che è molto molto simile sapete adesso provo a farvi vedere ragazzi il good ending non è un paese di Banes per Jack Matt è troppo tardi Jack è morto Maia runs a city now At least until somebody stabs her in the back Have any of my people passed through recently? You mean a pilgrim? Why'd he ask? I'm looking for a friend Thought he was coming here A pilgrim was here But not anymore Where'd he go? Wherever the road took him Same as the rest of you Did he find what he was looking for here? Yo, man Yo, man In a way They say he was looking for his sister But he found someone else Much closer And he chose to save her at all costs So why didn't he stay? They said he was starting to change Taking a drug that was destroying him People like him are better off on the road Quindi quella lì è la faccia di Hayden Ma l'avevo mai fatta vedere tutto il gioco? Mi sa di no a sto punto, sapete? E se ne va in pratica E se ne va in pratica Ecco per certe cose Un po' forzata sto con due punti di vista Cioè Avrei preferito una cosa un po' più lineare Se devo essere sincero Comunque va bene, dai Ok Vediamo cosa possiamo fare adesso Gioca campagna Esplora Villader Nuova partita plus Ripristino, cancella salvataggio Nuova partita plus Disponibile Se io clicco qua Teoricamente mi fa riprendere Dalle fasi precedenti alla fine Presumo Vediamo che sono curioso Per poter fare le cose che mi avanzano Spero Non ho detto che le faccia Perché le fine sono tutte missioni un po' così Un po' sfide Ecco più che missioni Le missioni penso di aver fatte tutte Quelle secondarie Vediamo Voglio almeno togliermi il dubbio Ecco Su come funziona l'endgame Anche nuova partita plus Deve essere interessante Cioè rigiocare il gioco Con tutti i perk già disponibili Eccetera eccetera Può essere un'esperienza Molto molto carina Che non credo farò comunque Sappiatelo Dai fatemi vedere cosa c'è qua Congratulazione Hai completato il gioco E la storia principale di Dying Light Loro puoi tornare a Villador Per completare le missioni E le attività open world In sospeso Affinché ciò sia possibile Alcune delle tue scelte Verranno annullate A partire da ora Il gioco si adatterà ai tuoi progressi Per portarti una sfida adeguata Consentirti di ottenere armi Di equipaggiamento Di credo superiore E altro ancora Ok Va bene ragazzi Sì vado qua su J Cosa abbiamo Il baba 6 Sfida Sfida Corriere Missione Gruppo di lettura Ok Le cose che appunto Mi mancavano prima Capitolo 2 Una cacciatrice Una strega Capitolo 1 Ordine di un ottambolo Va bene Va bene ragazzi Allora ho guardato un po' Ci sono svariati finali E' impossibile Il resumo di tutti In un'unica puntata Per cui penso che Probabilmente farò uno speciale Non è detto che lo faccia E sia chiaro Perché io non riesco a giocare Di tutti ovviamente Bisogna fare svariate scelte Ecco Però sostanzialmente C'è il finale In cui appunto La città si salva Il finale in cui Iacon viene salvato Quindi viene via con noi E' un finale In cui cerchiamo Di salvare Mia Ma che in realtà Se non ho capito male Muore comunque poco dopo Ecco Per cui detto questo Spero che la serie Vi sia piaciuta Grazie di nuovo E alla prossima